LF è il partner ideale nell'offrire componenti e accessori nel settore del caffè che qui oggi a Trieste ha deciso di fare squadra con GEV. Che cosa condividete per essere presenti a questa manifestazione insieme? Con GEV condividiamo la stessa storia, condividiamo la stessa filosofia. Noi siamo specialisti nella distribuzione dei ricambi per tutto quello che è il mondo dell'oreca. In questa particolare sede ci proponiamo come specialisti dei ricambi per le macchine caffè espresso e ci rivolgiamo ai clienti tipici di LF che sono tecnici di partori, centri assistenza e in particolar modo anche torrefattori. Noi e GEV veniamo da due percorsi molto simili con due livelli di specializzazione in aree geografiche diverse ed ora grazie all'unione di questi due percorsi, di queste due esperienze, siamo diventati il gruppo e l'entità più importante a livello europeo e fra le più importanti a livello mondiale nella distribuzione di ricambi per il mondo della ristorazione collettiva. Gilberto, come si articola la vostra offerta che esponete qua? Noi qua abbiamo deciso di presentare la nostra gamma di prodotti che si rivolge ai vari tipi di clienti abbiamo la parte tecnica quindi con prodotti come resistenze, pompe che sono articoli prettamente rivolti ai tecnici quindi non all'utilizzatore finale e invece abbiamo un'offerta di accessori per baristi che come dice il termine stesso si rivolge al professionista che lavora sulla macchina quindi abbiamo un po' il meglio dei due mondi se vogliamo.